Nel periodo estivo stavamo per la strada a giocare con le altre amiche, a campana, sempre con la famosa corda, a palla prigioniera e tutto questo si faceva per la strada perché non c'era traffico, nelle macchine non c'erano neanche una, ne passava una ma ogni 4-5 ore insomma non è che... e quindi potevamo stare benissimo per la strada e quando erano una di cena i nostri giratori ci chiamavano dalla finestra per andare su a mangiare, dopo di che si cenava e si andava all'estero a dormire perché non avevamo nient'altra cosa da fare. Ah, i più fortunati, mentre invece avevano, che avevano magari delle famiglie, famiglie un po' più giovani, mamma e padre più giovani, magari dei miei portavano, andavano al mare però non c'erano stabilimenti, non c'era niente e quindi si stava dalla mattina alla sera al sole sulla spiaggia. Si portava il panino, si portavano a mangiare così e finiva lì. Grazie a tutti.